Approvato ieri in consiglio regionale il collegato alla legge di stabilità della regione Campania in cui sono stati approvati diversi emendamenti proposti dal consigliere regionale Corrado Matera, molti dei quali di interesse per le aree interne. Di importanza primaria l'approvazione dell'emendamento proposto all'indomani dell'operazione portata a termine dai carabinieri della compagnia di sala Consilina su disposizione del comando provinciale che aveva portato alla scoperta di sversamenti illeciti di rifiuti in alcuni terreni che si trovano nel Vallo di Diano. L'onorevole Matera aveva da subito chiesto l'interessamento della regione Campania ponendo l'attenzione in particolare sulla necessità di effettuare interventi di verifiche sul territorio. La proposta riceve l'ok dalla regione attraverso l'approvazione del collegato alla stabilità in cui viene accolta la proposta presentata dal consigliere regionale tegianese insieme ai colleghi del gruppo misto in materia ambientale. L'emendamento approvato prevede, come spiega Corrado Matera, un intervento straordinario di monitoraggio dei corpi idrici e di riqualificazione ambientale, soprattutto alla luce degli ultimi eventi di cronaca che hanno coinvolto il Vallo di Diano, nonché uno stanziamento di 300.000 euro per l'attuazione della legge regionale 12-2017 relativamente agli interventi previsti per la protezione civile. Sono diverse comunque le proposte presentate da Matera e dal gruppo misto che hanno trovato spazio nel collegato e che sono state accolte. Attenzione è stata posta anche al rilancio delle aree interne puntando a garantire adeguate condizioni che consentano lo sviluppo economico ed industriale delle aree e che vada così a creare un freno contro il fenomeno dello spopolamento. A tal proposito, fa sapere Matera, è stata accolta la previsione che nella definizione dei distretti economici funzionali venga data priorità alle aree interne, nonché il rifinanziamento pari a 500.000 euro della legge sulle cooperative di comunità, quale strumento di innovazione sociale per combattere lo spopolamento. Interessante è poi la proposta, anch'essa approvata, che punta a mettere in relazione le aree interne di interesse culturale e turistico, come può esserlo il Vallo di Diano, con le bellezze storico-architettoniche, i paesaggi, i centri storici, con Procida, capitale della cultura 2022. Al fine di far crescere la campagna nella sua interezza, sottolinea Corrado Matera, è stato approvato un intervento che mira la realizzazione di itinerari turistico-culturali, grandi attrattori a aree interne. Attenzione è stata riservata anche allo sport e alla disabilità, con l'approvazione di altre due proposte presentate dal gruppo Misto e da Matera. Per ciò che riguarda l'ambito sportivo e per cercare di favorire la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva, è stata approvata la proposta di promuovere iniziative di conservazione e di implementazione delle strutture, ma anche miglioramento e messo in sicurezza del patrimonio edilizio sportivo esistente, attraverso anche il completamento dei musei celebrativi dedicate alle attività sportive e alle universiadi. Iniziativa quest'ultima, che vede protagonista il Vallo di Diano con il Centro Sportivo Meridionale, dove è prevista la realizzazione di un museo dello sport. In materia di disabilità, spiega infine Corrado Matera, per tutelare le fasce deboli è stata prevista l'adozione della Carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale, con l'obiettivo di ridurre le difficoltà di accesso alle cure e garantire l'effettivo diritto alla salute.